Massimo Semprini, direttore del Consorzio Sociale Romagnolo di Rimini. Massimo, stamattina è stata la prima volta del CSR nella seconda edizione della Biennale. Peraltro c'è stata una notizia importante, cioè una mostra del CSR, la mostra del CSR Fattore Umano presentata qui, oggi a Bologna, nelle giornate della Biennale. Intanto è effettivamente stata per noi una gioia e un onore poter presentare la nostra mostra in un evento di questo tipo, perché comunque raggruppava una serie importante di soggetti che operano a livello nazionale nel campo della cooperazione e della prossimità in generale. Questa mostra nasce da un lavoro che il CSR insieme alle proprie cooperative sta svolgendo da molti anni di investimento nella comunicazione, perché crediamo che purtroppo siamo bravi a fare i servizi, ma meno bravi a comunicare chi siamo e il valore della nostra attività ai cittadini, a tutti quelli che ci seguono. Questa mostra è quindi un'occasione di avere delle immagini e delle parole che consentono di spiegare il valore della cooperazione sociale e poterla presentare all'interno di un evento di questo tipo ci ha sicuramente particolarmente gratificato e quindi ringraziamo per questa opportunità che ci è stata data. Ti abbiamo visto poi partecipare oggi all'assemblea della rete 14 luglio. Il CSR ha aderito alla rete da poco tempo, seguendo l'esempio di una cooperativa del consorcio appunto alla formica che già aderiva dall'inizio, ti chiediamo perché il CSR ha aderito alla rete e che aspettative ha dalla rete? Sì, come hai detto tu, grazie alla formica siamo entrati in contatto con questa realtà importante di rete, di cooperative e soggetti cooperativi che operano nell'igiene ambientale. Diciamo che è fondamentale partecipare a queste strutture e a questi gruppi per essenzialmente tre motivi. Il primo è perché è importante incontrarsi e confrontarsi tra soggetti che operano in un determinato servizio e che operano anche con un certo tipo di comportamento etico perché questo lo vogliamo sottolineare che non è solo quello di una struttura imprenditoriale che fa servizi ma che ha anche un valore importante nella propria azione sociale. Il secondo motivo è che questa è una rete nazionale e che quindi consente di confrontarsi anche in ambienti territoriali con modalità diverse e questo è molto importante perché il rischio, visto che la cooperazione sociale fa un vanto del proprio essere territoriale, rischia però un po' di isolarsi, di essere autoreferenziale e quindi confrontarsi con realtà che vanno da Torino alla Toscana, da Napoli alla Lombardia è sicuramente un enricchimento importante. Il terzo punto fondamentale è che crediamo che dal confronto nascano idee nuove, nascano contaminazioni positive e siccome non si è mai finito di imparare, non si è mai finito di migliorare, questi sono i momenti nel quale si può anche crescere, si può avere quel momento di riflessione che spesso nella vita quotidiana manca. Perfetto, grazie.